Negli scorsi giorni l'amministrazione bolitana era scesa in campo per evidenziare la necessità di rinforzare l'organico dell'ospedale Maria Santissima Dolorata. Il presidente del Consiglio Comunale, Fausto Vecchio, aveva annunciato la richiesta di un prossimo colloquio con il manager dell'Asla, Antonio Giordano. Le dichiarazioni non avevano sortito gli effetti sperati da parte di alcuni rappresentanti sindacali. Rolando Scotillo della Fisi ha infatti accusato il silenzio prolungato dell'amministrazione Burina, sottolineando inoltre l'inutilità delle dichiarazioni se non seguite da fatti. I nostri politici, invece di lamentarsi inutilmente, possono sempre ricorrere al Tarre insieme ai comitati, alla Fisi e al sindaco di Rocca d'Aspide, ha dichiarato il sindacalista. Ma per Vecchio e Cariello, il Maria Santissima Dolorata va difeso in altro modo. C'è chi è abituato a fare polemiche e chi risolve i problemi, ha spiegato Vecchio. Se avessimo voluto, il ricorso al Tarre lo avremmo già realizzato. Il presidente del Consiglio punta ad un pronto colloquio con Giordano. È necessario ottenere le strutture tecnologiche richieste dai vari reparti, conclude. Occorre un'interlocuzione con i livelli provinciali e regionali.